Buongiorno a tutti, io sono la dottoressa Antonella Loggiurato dell'Ufficio Tutela della Natura della Regione Basilicata. Dunque, noi negli ultimi anni abbiamo lavorato molto su Rete Natura, c'era un grosso gap conoscitivo sulla nostra Rete Natura 2000, per cui abbiamo attivato negli ultimi anni un programma di conoscenza in campo e da questa indagine conoscitiva, come abbiamo tirato fuori un po' di argomenti, ho portato solo un poster perché, dovendo parlare in una tavola rotonda, ho dato solamente importanza a quelli che sono più o meno i risultati che sono venuti fuori. La cosa che ci siamo, e quindi non parliamo appunto di monitoraggio, come diceva stamattina il professor Boitani, perché non si tratta di un monitoraggio, ma semplicemente di un'indagine conoscitiva, cioè noi siamo andati sui siti Natura e abbiamo cominciato a vedere per la prima volta cosa effettivamente c'era su questi siti Natura 2000, perché in fondo poi la difficoltà, è vero, ci confrontiamo con la letteratura esistente, però come avete visto la Basilicata spesso ha dei gap conoscitivi scientifici molto grossi, per cui è chiaramente fuori dai siti Natura 2000 questi gap conoscitivi rimangono e è necessario nel futuro tentare di colmarli questi gap conoscitivi. Abbiamo trovato una serie di informazioni sui siti Natura, quindi parlo solamente della rete Natura 2000, eccezionale, cioè siti su cui erano stati segnalati in passato due habitat, ne abbiamo trovati 5, 8, abbiamo trovato 13 habitat prioritari sui 64 habitat presenti, 13 sono prioritari, per cui la Basilicata ha fatto questo grande sforzo di avere una maggiore conoscenza sul territorio, però è chiaro che al di fuori dei siti Natura noi ci poniamo il problema su come, con quali metodi e con quale approfondimento andare ad attivare delle maglie su cui poter lavorare. Questa indagine conoscitiva sui siti Natura ci ha consentito di redigere delle misure di tutela e conservazione e dei piani di gestione, e questo grazie al fatto che sono state indagate anche delle minacce presenti sul territorio, perché hanno lavorato non solo i naturalisti e gli zoologi, ma anche degli ingegneri ambientali che sono andati a trovare quali potevano essere le minacce più forti presenti sui nostri territori. Quindi a questo punto io apro un'importante parentesi che è quella appunto di dare più dignità a questo lavoro, porca miseria. Cioè voglio dire, forse è il caso di battere un po' di più i pugni su questa risorsa. Alla fine sembriamo quasi sempre la cenerentola della situazione. Il Ministero dell'Ambiente, l'Ufficio tutela, si occupa di un po' di cose, si divertono, fanno delle cose carine, hanno redatto la cartografia con gli habitat su tutti e 50 i siti, siamo riusciti a redigere la cartografia degli habitat. Però poi in fondo ha fatto lavorare 150 persone, abbiamo messo in campo una rete di persone che hanno cominciato a chiedersi delle cose, che hanno partecipato a un convegno che abbiamo realizzato ad Aliano lo scorso anno, e in cui ci siamo posti non solo come tutela della natura, ma anche tutela di culture, di saperi, di conoscenze, perché poi in fondo tutelare la natura non significa solamente tutelare l'habitat naturale, no? Ma tutelare anche i pascoli, tutelare anche alcune situazioni come alcuni boschi utilizzati in modo sostenibile. Per cui voglio dire, forse dobbiamo cercare di uscire fuori da una logica un po' chiusa, un po' stretta nelle nostre stanze, che deve uscire e dare più voce alle nostre conoscenze, al nostro patrimonio naturalistico. Chiaramente la Regione Basilicata si è posta il problema di come far funzionare il dopo. Intanto abbiamo la scorsa settimana stabilito quali sono gli enti gestori, con una delibera di giunta, cioè il Ministero ci chiedeva con il decreto ministeriale di stabilire chi gestiva le 20 ZSC che siamo riusciti a designare e quindi siamo riusciti a capire chi dovrebbe gestire queste aree. E questo ci consentirà, con un nuovo progetto che abbiamo messo in campo, una task force regionale, di cercare di inserire all'interno della pianificazione di sistema, cioè delle varie amministrazioni pubbliche, dei piani, dei parchi, tutte le misure di conservazione che noi abbiamo stabilito e redatto per le nostre ZSC. Questo progetto si chiama Green Hub, è un progetto in cui lavorano una task force di 20 ragazzi che saranno sul territorio a lavorare con le amministrazioni pubbliche per far sì che queste misure di tutela e conservazione siano effettivamente inserite negli strumenti di pianificazione che poi sono praticamente stringenti. Chiaramente però ci siamo anche posti in problema di come deve funzionare il resto del territorio, per cui abbiamo dal 2008 uno schema di rete ecologica, uno schema di rete ecologica regionale, su cui abbiamo da qualche tempo, da quando l'ISPE ci ha messo a disposizione Carta della Natura, stiamo cercando di far dialogare i due tipi di informazione e quindi cercare di approfondire lo schema di rete ecologica regionale, anche dialogando con le province, con i comuni, affinché ci sia un maggior dettaglio sul territorio, su quella che è proprio la biodiversità presente in Basilicata. Chiaramente c'è un gap, questo lo dico chiaramente al Ministero, ma anche a livello, ieri il dottor Dupré parlava di una legge sulla biodiversità, una legge quadro sulla biodiversità, sarebbe effettivamente un'esigenza, penso, di tutte le regioni, cioè capire come dobbiamo normare queste attività che sono al di fuori dei siti Natura 2000, perché poi il collega del PSR mi chiede scusa, ma io come faccio a dare dei fondi agli agricoltori che sono al di fuori della rete? Come faccio a stabilire qual è l'area di contiguità? Quindi ci sono dei gap importanti che forse possono essere risolti con una normativa nazionale, che chiaramente va a normare anche le aree che sono al di fuori di rete Natura 2000. Che altro dire? Noi abbiamo, anche noi ci siamo sforzati di fare, appunto, di redigere il PAF, questo documento su cui ci sono tutte le priorità che secondo noi sono, diciamo, quelle per cui, almeno sugli ecosistemi più fragili, sulle specie più fragili, abbiamo dato importanza, per esempio, all'area dunale, che in Basilicata è molto a rischio, abbiamo dato importanza alle aree, diciamo, alle praterie montane, mediterranee, perché stanno scomparento per la scomparsa del Pascolo, però è pur vero che il PAF viene visto a livello regionale come un qualcosa di accessorio alla programmazione, questo è il problema. Cioè, non è che ci chiedono informazioni, abbiamo redatto il documento, l'abbiamo condiviso con gli altri colleghi degli altri dipartimenti, però, insomma, sembra quasi che sia un esercizio di stile la stesura di questo PAF, e quindi forse, diciamo, dal Ministero deve venire forse una maggiore, non lo so, una maggiore richiesta di integrazione tra le varie componenti ministeriali che a livello nazionale gestiscono questo tipo di materia. Grazie mille. No, io sono, devo dire, mi fa molto piacere che anche se il tempo di questa discussione è più contratto rispetto al resto, siate riusciti a evidenziare tanti punti essenziali e critici che vanno affrontati. Noi non abbiamo tutti evidenziato, ma forse non abbastanza, l'enorme lavoro fatto dalle regioni che non ci aspettavamo noi tecnici, cioè la gran parte dei dati del rapporto nasce dal lavoro pluriannale fatto dalle regioni. Io credo che va invitato tutto il mondo accademico e scientifico, di cui facciamo parte anche noi, a non vedere più le regioni come la risorsa a cui attingere. In realtà le regioni sono dei data providers, cioè ci danno le informazioni che sono essenziali, hanno un compito spesso di indirizzo e guida sulle attività di raccolta dati e di conservazione che va riconosciuto e accetto la critica come coordinatore di questo progetto del fatto che i tavoli tecnici che ci eravamo impegnati ad attivare sono stati un punto carente di questo progetto e vanno rafforzati come Ispra, ci impegniamo a fare la nostra parte. Insomma, come ho detto più volte, il progetto è stato molto più complesso di quanto pensassimo e ci siamo trovati con tempi molto stretti. Era stato citato l'aspetto dei dati. Credo che il segnale che abbiamo dato, cioè che tutte le informazioni raccolte sono già in un sito online pienamente accessibili, per ora poco fruibili perché sono nei formati europei che non so, però tutte le cartografie, tutte le schede sono già accessibili online e Ispra si è impegnata con il Ministero e con tutto il gruppo delle regioni a lavorare per migliorarne la fruibilità. Adesso mi fa piacere sentire un'ulteriore presentazione sul lavoro fatto dalla regione Sardegna. Di Sardegna abbiamo parlato moltissimo, ma perché è venuto fuori dai dati il ruolo chiave che ha la Sardegna nella direttiva Habitat, in quanto patrimonio, in quanto ospita moltissime specie di interesse comunitario, specie endemiche che sono importantissime. E in questo il dialogo che c'è stato, proprio di verifica tra i formulari standard, i dati raccolti in questo lavoro, è stato uno dei punti in cui si è visto come l'interazione tra organismi tecnici e regioni sia essenziale.